Ciao ragazzi da Lex, ci troviamo davanti a Piazza Italia a cercare nuovi sconti. Qua c'è scritto che hanno fatto molti saldi. Andiamo a cercare i migliori sconti che ci sono. Allora, qua intanto per i bambini vedete che 4 euro, ci sono veramente molte cose per i bambini. Adesso noi andiamo a vedere per gli uomini, vediamo quello che c'è. Allora, questa bella camicetta a fiori, ci costa 14 euro, deve essere di cotone ed è un bel pezzo. Poi vediamo, 5,90 euro questa maglietta qua, è bella. Questa è già una carina questa qua. Questa quanto costa questa. Questa viene 10 euro. 10 euro ma è molto bella però. Colore molto bella. Questa viene 7 euro. Questa qua, questo è sempre 10. Qua guardate, i pantaloncini di jeans, 10 euro. 10 euro se vi servono pantaloncini di jeans, 10 euro li trovate. Qua le scarpe, le scarpe sono veramente dei prezzi pazzeschi. Siamo sui 10 euro. 10, 14 euro delle scarpe. 12 euro. Qua sono veramente dei prezzi pazzeschi. Allora, 7 euro quella maglietta lì. 7 euro, 5 euro, 7 euro. Allora, vediamo questa qua. Un po' com'è. Allora. Qua abbiamo 19 euro questi pantaloncini qua. Ecco, una cosa da segnalare sicuramente, sono queste, infradito a 3 euro. Ma ne avevo anche viste da 2 euro. Ecco qua, guardate, portafogli. Qua 5 euro i portafogli. Allora, qua. Fate cintura. Una cintura, una a 2,50 c'è scritto. Cravatte, cioè questa a 2,50 c'è scritto. Guardate che è buono. Questa è da segnalata, eh? 2,50 questa a cravatta. Ecco, vedete, guardate. 10 euro questi pantaloni. Bellini. 10 euro. Estivi leggeri, anche questi qua. Poi vediamo cosa c'è. Queste magliette qua, scritto di 10 euro. 4 euro quella che non ti era. Questa qua, guardate che carino questo. Amsterdam, 4 euro, 4 euro, arancino. Vedete che ci sono cose anche questa, penso, 4 euro. Papillon, 2,50 euro, segnalato. Questo che cosa è un euro? Questo è un fazzoletto, deve essere un euro. Carine. Questa è un bel negozio, costa poco. Questi 10 euro, questi pantaloni qua. 10 euro. Guardate, queste sono pesanti, eh? Dezze serie, cioè, a trovare, si trovano cose molto, ma molto, a molto poco prezzo. Questo quanto costa, per capire. Questa costa 7 euro, questa maglietta qui. Però tipo questa, costa 5 euro. Vediamo questa qui azzurra, bella che si vede, 7 euro. Guardate, com'è. Qua ci sono camicie. Camicie a 7 euro. Cavolo. Cavolo. Camicie a 7 euro. Cioè, qua sono i saldi sui saldi ancora. Perché non li avevo ancora visti 8 euro, questi prezzi. Questi prezzi non li avevo ancora visti qua. Allora, questi pantaloni, siamo a 15 euro. Dezze, 15 euro. 7 euro le magliette, 5 euro. Guardate, questa camicia qui bella, 10 euro. Qua si trovano veramente delle offerte buone. Ecco, vedete, 7 euro. Allora, 4 euro per le magliette. Magliette normale, penso a magliette normali, i bianchi, 4-5 euro qui. Vedeteci, 4 euro le magliette. 10 euro, qua l'avevo notato. Che le camicie sono molto buone. Adottiamo tutte le precauzioni suggerite dal Ministero della Salute. Providiamo giornalmente la sanificazione di i bianchi. Allora, guardate questo. 30 euro perché è scontata del 50 euro. Guardate che bella che è. E potete trovare già rigidizzante per le vostre value. Questa giacca a 30 euro. Questa è un pegatorio mantenere da distanza di sicurezza e la vigilizzo della mascherina. Eh sì, perché è al 50%. Vedete, anche queste giacchette un po' più elegante. Questa 40 euro. Ah, questa non l'avevo vista ancora. Partire da 30 euro. Questa... 35 euro questa. Ragazzi, è foderata pura. Pantaloncini 15. Ecco ragazzi, è un negozio molto... Si trova molte cose, si trova. Con dei prezzi molto buoni. Questa è 7 euro. Del magliano azzurro 8 euro, bene. Allora, i pantaloni eventualmente da abbinare costano 20. Cioè costano, pensate, per un po' di più i pantaloni della giacca. Eh, ma perché lì... Diciamo che i pantaloni non erano scontati. Guardate che bella questa camicia. Vi dico subito quanto costa. Siamo 24. Non in saldo. Vedete, c'è scritto. Sì, solamente che è una... Una tessuto viscosa molto bella. E' a dire questo. Vedete questa camicia che bella che è. Che 4 euro. Ci sono cose in saldo e cose... Questa maglia qua. Cerchiamo le cose in saldo. Questi pantaloncini qua in saldo. Costano 20 euro. Vedete che belle che sono. Poi per i bambini c'è tante cose. Leggo 4 euro, 5 euro, 4 euro. Qua bermuda a 12 euro. Questa maglietta qua viene. 5 euro. 5 euro. Dunque qua vedete tutti questi bermuda qua. Che sta qua a 12 euro. 12 euro. Vi trovate la taglia e fate un affare. Questa 15 euro. Questa maglietta, 7 euro. Guardate che bellissime i pantaloncini qua. 10 euro. Perché sono scontenti. Vediamo questo colore qua. Questo. E fa anche una bella camutiera. Quanto viene? 7 euro. Tutte queste che belle si è i pantaloni qua. 20 euro. Peggio. Su queste sono magliette da 4 euro. Guardate i costumi che bella. Guardate che bel costume. Questo qua azzurro. Questo azzurro. Allora vi dico subito i costumi quanto costano. 8 euro costano. Guardate questo. Ah ecco. Questo non l'avevo visto. Questo bianco. Non male. Ci abbiamo anche i costumi classici. Normali. Guardate questo. 9 euro. Va bene. Qua le polo. Cioè abbiamo polo da. 6 euro 95. Poi vedete i colori vari. È bianco. Guardate questo che colore bello che è. Anche questo. Altri costumi a 10 euro. Poi questa. Quanto costerà questa camicia? 14 euro. Bellissimo. Questa è viscosa. Sapete quel tessuto tipo seta. Bellissimo. Allora guardate qua. Costumi. Poi qua. Ci sono altre. Camicia anche sul rosso. Vedete. Qua ci sono pantaloni chiari. 19 euro. Che poco. Questo. 15 euro. Questa mi serve. Ma la devo comprare. Però la compro grigia. Che mi piace di più. Questa mi serve. Un tessuto leggero. 15 euro. Buonissimo. Buonissimo. Buonissimo questo. Qui vedete. Pashmina qua. A 5 euro. Anche questo è scontato del 15. Un prodotto segnalato anche questo. E' un pantalone a 10 euro. Poi vi segnalo questo. Poi quello che vi segnalo. Sono anche questi altri pantaloni qua. Che ci sono anche di questo colore qua. E ci sono anche il blu. Quella guardate che bella. Quella maglietta dice. Comunque vedete. Come vedete. Un bel negozio. La canutiera Coca Cola. Guardate che bella. Anche Sprite. Guardate anche Sprite. Adesso guardate. Ve la tiro fuori. Guardate che bella. 7 euro. Ecco. Un bel negozio simpatico. Giovanile. Niente. Costa poco. In questo momento ci sono. Veramente buoni. Buoni scontri. Vi consiglio di venire a vedere. E niente. Ci vediamo. Ci vediamo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima video. Qua è tutto. Da Alexo. Vi saluto. Ciao al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Alla prossima.